Ciao a tutti, sono Manu Romano e sono una delle insegnanti della Polpation Academy. Fin dall'inizio e fin da quando la scuola ha aperto, insegno Flexibility e Mobility a giovedì sera ed ora online. E questa è la mia storia. Ho sempre praticato sport fin da piccola, atletica prevalentemente e anche un pochino di patinaggio artistico. Sono sempre stata molto affascinata da queste discipline. Mi sono poi spostata nell'ambito della pallavolo, giocando da semiprofessionista fino all'età di 18 anni. E dopodiché ho approcciato il mondo delle palestre, praticando principalmente attività aerobiche. Poi c'è stato un grosso buco nero fino ai 42 anni, quando mi sono avvicinata al mondo dello yoga, per cercare un po' di sollievo dallo stress lavorativo. All'epoca vivivo a New York, una megalopoli molto viva ma anche stressante. E me ne sono innamorata immediatamente. Negli anni successivi ho sperimentato vari stili di yoga e ho conseguito due certificazioni, la prima nel 2015 e la seconda nel 2019, per un totale di 500 ore di training per diventare un'insegnante certificata. Ho iniziato a fare una ricerca molto profonda nel mondo della mobility, studiando moltissimo anche l'anatomia, per cercare di ovviare ad alcuni istacoli strutturali del mio corpo e per riuscire a svolgere determinati movimenti in totale sicurezza. Quello che insegno è un mix di movimenti legati allo yoga, movimenti più legati alla mobility ed è un metodo che funziona per tutti, per cui vi aspetto alle mie lezioni o dal vivo o online. Ciao a tutti! Ciao a tutti!